Musica Ragazzi, alle mie spalle potete vedere Chopper, infatti questo è un ristorante, è il ristorante all'ultimo piano di One Piece No, guardatelo, no, che maledetto Guardate, è ciopperone gigante Cioè, qui c'è Ciopper ovunque, ma Ciopper è diventato famosissimo, eh, in Giappone Cioè, da tutte le parti viene usato Lo seguo molto la serie, però lo vedo spesso in Gallup, c'è un figures proprio qua Bestiale Ah, qua i piatti che fanno No, guardate, ragazzi Cioè, il cappello fatto con, so che cosa, ma fa una voglia matta Con un tipo di Würstel, delle patatine e cose così Oppure, pasta asciutta con sughetto, con qualcosa Il dolce E altri due dolci E bibite a manetta Dunque adesso direi di andare dentro E mangiare Ecco il mio cibo, ragazzi, che avevo ordinato Prima, praticamente, c'è Cos'è, un hamburger? Un hamburger, mangio qui Spaghetti e pomodoro E per finire tre Patate Guarda, c'è Morte, praticamente, ormai Perché sono anche L'hanno messo insieme Hamburger Pasta in bianco Ragù Patate I pomodorini freschi Cosa si fuma al cuoco La sua più bella presenza Io ormai sono già a metà quasi E voi non avete preso niente Ah, il dolce Il dolce Dunque io adesso, ragazzi, mangio Perché ho una fame e bevo a stante È da ora che continuo a rompere i cordoni con questa fame Adesso Magno Ciao